Grazie. Guardi, non ho letto il libro, a volte credo di vivere in un mondo al contrario, non mi sto occupando delle candidature di Fratelli d'Italia e dei vari partiti, su questo purtroppo non so dirle niente, per quello che riguarda i ministri, se lei mi paventa l'ipotesi sul rimpasto direi che abbiamo già risolto il problema delle candidature dei ministri, nel senso che io non auspico, non voglio e non lavoro a un rimpasto dei ministri del governo, sono contenta della mia squadra, tutto si può migliorare, chiaramente sono contenta del clima che c'è, sono contenta del lavoro che stiamo facendo e quindi non ragiono di rimpasto. Poi quello che faranno i vari partiti nelle candidature lo valuteremo caso per caso e quando i problemi si porranno, per ora noi abbiamo solamente parlato dell'ipotesi di candidare i tre leader dei partiti della maggioranza, come dicevo questa è una scelta che secondo me è corretto fare insieme, del resto mi pare molto presto, insomma non ne abbiamo parlato e non mi sono mai posta il problema, ma sicuramente diciamo io non lavoro per ottenere un rimpasto, se questa diciamo poteva essere la domanda nascosta, non lavoro per ottenere un rimpasto.